In gara, se non mi avrei denominato, andavo qui dentro e la facevo in linea, se non sbagliavo questo facevo in netto, perché qui la zona l'ha fatta, lì l'ha fatta. Ti eri addosso, avrei ancora fare più roba a fare. No, no, dicevo, se mi fosse entrata nel tubo sarebbe stato netto, perché l'errore dello slalom non l'avrei fatto, perché non l'avrei mandato d'invio, ma ci eravamo ingegnato per paura di buttarli fuori. No, 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 no. Non lo gira male, ma io non gira male, cioè è anche veloce per essere rosso a quel momento. Fatto netto? Bravo!